Il Ministro Generale A tutti i padri capitolari e a Sua Eccellenza il Vescovo di Assisi, auspicando che tutti abbiano ritrovato le pietre di Assisi rinate a nuova luce, rinate a nuova luce dopo i restauri, in un luogo del dialogo, un luogo del dialogo e patrimonio di tutta l'umanità, da cui sierge l'armonia dell'arte pittorica europea. Pragnę skierować moje przywitanie biskupowi miejsca, generałowi naszego zakonu, wszystkim braciom obecnym, kustoszowi i sakrokonwentem. Mam nadzieję, że przebywacie tutaj, aby widzieć to miejsce, które nie jest tylko zrobione, uczynione z kamienia, ale jest pełne życia. To miejsce, które zarazem jest już odnowione. Jak zauważyliście, zostało podczynione wiele różnych prac. Dziękuję. Promoczenie From A teu I Nค社 Moそ To Do To To C Do W S 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 e spera che i fratelli, al arrivare qui a Sì, abbiano reencontrato la guerra di Sì dopo il restauro, un simbolo della città di dialogo e di paz, che è anche un simbolo della architettura dell'Europa. Il magistrato di Sì Sì vuole dare il ministro del generale, al sacco di convento di Justus, e anche a tutti i capitoli, e anche al bisopio di Sì Sì. E dice che spera che si possa trovare le stelle di Sì Sì dopo la ristorazione come un posto di dialogo e di pazienza, e anche che questo rappresenta l'architettura dell'Unione Europea. Soprattutto in questo momento, in questo momento storico, lo spirito francescano dell'essere una comunità, dell'essere una comunità come stile di vita per il bene, è un ampio esempio a cui le persone, le città e le nazioni dovrebbero guardare con grande attenzione per costruire una vera speranza e soprattutto per costruire una nuova economia del noi e della comunione. Sì 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 Sì, Il termino franciscano deve essere soprattutto un esempio di comunità, che può servire a le città, a i popoli, per realizzare le relazioni humani, tanto in quanto riguarda il benessore materiale come al benessore spirituale. Il carino franciscano è un grande gioco per construire comunità. Il carino franciscano deve essere una comunità, perché è un esempio di construire una nuova città, una nuova società, anche nel senso materiale e nel senso spirituale. Il carino franciscano deve essere un esempio di construire una nuova relazione between the man and the woman of this time. Chi è custode, come voi tutti, dei valori del Santo Francesco è segno, è segno vivo di una eredità che ci chiama alla essenzialità, per trovare, ritrovare nella semplicità, direi nella nudità, l'essenza della vera letizia. Il carino franciscano deve invitare a incontrare in una vita simple, la essenzialità della vera letizia. Il carino franciscano deve invitare a noi per trovare nella semplicità l'essenza della vera letizia. Ministro Generale, Padre Capitolare, vogliate gradire i migliori auspici, i migliori auspici per il vostro mirabile servizio, assicurando la vicinanza della città di Assisi, vicinanza alla Chiesa e al francescanesimo, su cui riponiamo una grande speranza come comunità. Proprio dal francescanesimo dovrà nascere un nuovo umanesimo. Drogi Ojcze Generale, wszyscy i cobie kapitulni, pragniemy przez kolejno podziękować wam i wyrazić naszą wdzięczność za waszą obecność w tym kościele lokalnym, w tym mieście, w tej społeczności. Pragniemy, abyście zawsze byli znakiem obecności Boga w tym świecie, aby Bóg był obecny wśród nas. Il alcalde Assisi quiere reafirmar la cercanía de la ciudad y de él al carisma franciscano y augurando que realmente podamos encontrar en este carisma un humanismo real. Il alcalde Assisi wants to reaffirmar la cercanía al carisma franciscano. Il alcalde Assisi wants to say that he expects that we can find also the real humanism in our carisma. Gràcies. 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 Gràcies.